mini clubman apre più porte a nuove stimolanti avventure grazie sui cinque posti alle sei porte su clubman potrai caricare quanti bagagli vuoi per il tuo viaggio ah scusate sono antonio pastore nella maldarizia automotive spa e oggi avrò il piacere di presentarmi la nuova mini clubman nel dettaglio la più heritage delle mini mini clubman rappresenta il perfetto connubio tra stile innovazione e funzionalità i suoi interni eleganti sono anche molto spaziosi e coniugano l'artigianato più attento ai materiali di prima qualità e tecnologie del cockpit all'avanguardia la plancia il cruscotto sono arricchiti da un design accattivante arricchito da un display da 6,5 pollici uno stile retro che strizza l'occhio alla più moderna tecnologia che ti consente di restare sempre aggiornato grazie ai sistemi di connessione di intrattenimento di ultima generazione gli innovativi fari led matrix mini offrono il massimo di illuminazione per visibilità e sicurezza ottimale e come per tutta la gamma mini i fari posteriore al led ricamano la union jack unendo personalità ed eleganza mini clubman nasce col desiderio di soddisfare qualità e praticità equipaggiato con motori mini twin power turbo è disponibile trazione anteriore o trazione all four integrale la gamma è ben articolata in quattro modelli one cooper cooper s e jcv la capacità del vano bagalli da 360 litri e l'adattabilità dell'ampio sedile posteriore offrono la possibilità di caricare bagalli anche quelli più ingombranti per un volume di ben 1250 litri mini clubman è disponibile a partire da 30.100 euro nella versione alle mie spalle cooper d vi aspettiamo in tutti i nostri showroom su bari tranni e foggia o su maldarizi.com